Assessore, con le modifiche del contratto collettivo decentrato si risolveranno effettivamente le criticità riscontrate in questi anni per quanto riguarda appunto il personale? Certo, ovviamente come assessore al personale nel momento in cui mi sono insediata ho preso atto ovviamente del contratto che era stato firmato nel maggio 2014 e nella piena condivisione con i sindacati abbiamo comunque, come dire, avviato una strada di condivisione per poter poi ovviamente intervenire sulle criticità nel momento appunto dell'applicazione del contratto, c'erano degli istituti che dovevano essere resi ovviamente più snelli e quindi noi con l'amministrazione, con il loro supporto, con il supporto dei sindacati, siamo riusciti quindi a dare delle linee di indirizzo che poi il tavolo tra tanto ovviamente ha elaborato, quindi ha definito, per giungere poi a poter far firmare queste modifiche al contratto collettivo decentrato integrativo da tutte le sigle. Le criticità sulle quali noi adesso abbiamo comunque agito e lavorato riguardano soprattutto la performance dipendente e le progressioni economiche orizzontali che quindi è un istituto che a seguito anche delle normative intervenute era abbastanza diventato rigido, quindi occorreva intervenire per velocizzarlo ed è quindi un importante risultato che grazie all'intervento che c'è stato, insomma con incontri vari, i sindacati insomma li abbiamo avuti vicino quindi sono stati in grado di aiutarci a superare queste difficoltà e poi una cosa importante in vista anche dell'estate abbiamo comunque reso più flessibile la turnazione del dipendente che fa turnazione per quanto riguarda la polizia municipale in vista quindi di maggiori controlli e quindi sicurezza sul territorio riusciremo quindi ad avere la possibilità di più turni.